Abbiamo appena concluso un intervento di manutenzione ordinaria nel Tevere, un intervento che ha portato ancora di più all'evidenza le grandi caratteristiche naturalistiche di questo grande fiume e anche dei suoi affluenti. E partendo proprio da questa consapevolezza e anche dalla sollecitudine che ci è arrivata dal territorio, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno vuole promuovere sul Tevere e su alcuni suoi affluenti un contratto di fiume. Volto da una parte a garantire la sicurezza idraulica del territorio e dall'altra a valorizzarlo in tutti i suoi aspetti, promuovendo anche una fruizione del territorio volto alle comunità e volto anche perché no a una prospettiva di attrazione turistica. Abbiamo in programma una videoconferenza con i sindaci del territorio per presentare e discutere insieme a loro il nostro progetto anche perché il primo passo per restituire il contratto di fiume è proprio l'adozione da parte dei sindaci, dall'Unione dei Comuni e dagli enti coinvolti del manifesto di intenti. Da quel momento poi si apre l'occasione di presentare questo progetto a tutta la popolazione perché il contratto di fiume è uno strumento che vuole e valorizza la partecipazione dal basso. Quindi tutti i soggetti, le associazioni, i privati, le imprese che operano nel territorio e che condividono con noi le finalità del progetto possono partecipare ai nostri tavoli e contribuire alla valorizzazione di questo progetto per un territorio ancora più bello e più vivibile.